Un buongiorno a tutti gli amici e amiche della moda e della fotografia. Io sono Walter Pettinati della Pettinati Communication, giornalista, fotoreporter, videomaker, scritta all'albo dei giornalisti della Toscana e sono qua per presentarvi la nascita di un progetto che principalmente prevede, grazie all'avvocatessa Simona Grossi del Foro di Latina, la consulenza gratuita a tutte le ragazze che si avvicinano, che fanno parte del mondo della moda, questo bellissimo quanto complicato mondo della moda. L'avvocatessa ha condiviso subito la mia idea di realizzare un'associazione, perché non siamo un'agenzia di moda, di modelle, un'associazione che fa parte della promo Italia, che garantisca alle ragazze in maniera del tutto gratuita, quindi per adesso siamo io e la dottoressa Grossi, ma anche in futuro nessuno, quando qualcuno vi chiederà un euro non fa parte della nostra organizzazione. Quindi noi abbiamo due scopi principali, una, sostenere legalmente le ragazze, consulenza soprattutto per prevenire quegli abusi, quei comportamenti che spesso le ragazze subiscono o che si ritrovano ad affrontare. Due, promuoverle e sostenerle anche sotto l'aspetto della comunicazione con servizi gratuiti. Ecco, non ci poteva essere occasione migliore per fare questo video con l'arrivo del lookbook di prova che ho realizzato per Gaia Scotellaro che vedete nel video qua dietro di me e che ho ricevuto proprio un'oretta fa. Eccolo qua, ve lo presento, questo è il lookbook di prova, il davanti, il retro, copertina rigida e all'interno troviamo le foto che sono state scelte insieme a Gaia scattate durante lo shooting di febbraio di quest'anno. Quell'occasione, in quella freddissima mattinata con 5 gradi e un bel vento di tramontana, una location stupenda, ma secondo me non in quell'occasione che è Artimino in provincia di Prato abbiamo realizzato questo shooting, abbiamo girato qualche video e poi come promesso anche nel mio profilo, adesso è ufficiale con la presentazione del progetto, dopo lo shooting, il video, lo spot video che vedete girare sotto di me, il composite che viene realizzato alle ragazze per inviarlo a eventuali agenzie o soprattutto aziende che cercano ragazze per delle iniziative retribuite e abbiamo dato vita a questo, questo è il lookbook, l'ho ricevuto io di prova, lo riceverà, l'avrà ricevuto anche Gaia sicuramente quando rientrerà a casa questa sera, Gaia stamani era al negozio di Jerry Santoro in questo famoso famoso parrucchiere, il grande comunicatore, presidente della InterCourfure Italia, la più prestigiosa associazione di parrucchieri al mondo che è presente in tutto il mondo, il prossimo evento sarà a San Trofe, Gaia insieme a Alessandra e Arianna hanno fatto parte delle 30 modelle che hanno partecipato al lancio moda di Montecatini a fine marzo, una giornata bellissima che prevedeva una preparazione e successivamente anche un seguito alle ragazze che hanno partecipato, che non sono, vengono dall'organizzazione di Jerry Santoro, abbandonate una volta fatto l'evento, quindi Gaia in quell'occasione si è sottoposto a un'acconciatura completa e stamani era presso il salone di Daniela Romina e di Jerry Santoro per l'applicazione dell'Estation, quindi vedremo non più una graia a caschetto ma con un bel capello lungo come lei desiderava, quindi le ragazze vengono sostenute sia da noi che anche dalle aziende con le quali instauriamo una collaborazione, ecco con Jerry Santoro c'è una collaborazione, due sabati fa ha organizzato un casting dove mi ha chiesto di coinvolgere, presentarli delle ragazze, sono state una diecina di ragazze che sono venute, sono stato realizzato, che ringrazio ovviamente, stato realizzato il composite eccetera, adesso sono in attesa di risposte ma soprattutto dei prossimi eventi ai quali parteciperanno come così come hanno partecipato Gaia, Alessandra e Arianna. Quindi per tornare a noi questo lookbook fa parte del progetto Assomodelle per la promozione gratuita delle ragazze e adesso che l'ho ricevuto ho già individuato alcuni errori come questo bordino azzurro che diventerà nero perché è un margine un pochino errato, calcolato male, all'interno ci sono anche altre piccolezze che rovinano insomma il fascino di Gaia e che metterò a posto appunto in modo da discutere, da sottoporre a Gaia e poi per l'approvazione. Allora questo book come ho già detto più volte forse in maniera velata un po' troppo e sarà messo una volta ottimizzato andrà in vetrina nelle migliori librerie online e markplace di libri proprio nella categoria delle pubblicazioni grafiche, fotografiche eccetera quindi la ragazza che appare in copertina con il suo nome insieme ai nostri riferimenti sarà vista insomma e avrà una si spera una bella un bel ritorno una bella pubblicità. Oltretutto questo lookbook sarà messo in vendita in questi shop online e le persone che lo acquisteranno riceveranno una copia stampata a casa dal prezzo indicato nei vari shop e vi garantisco che è un una creazione pubblicazione di grande qualità sia a livello di fattura che a livello di immagini quindi chi vuole avere con sé Gaia scotellaro 24 ore non stop questo è un sistema elegante per sostenerla anche nella sua crescita artistica. Gaia lavora una ragazza piena di interessi e ha la passione per l'equitazione quindi il prossimo shooting sarà fatto a cavallo però ha questa grande passione anche per la moda e la fotografia ecco quindi quello che noi possiamo dare lo stiamo mantenendo il piccolo ricavato di 5 euro che noi mettiamo sul costo di chi stampa questo libro questa bella pubblicazione che poi sta diventando una collana di ragazze io gli ho dato questo nome shooting time perché semplice però si tratta di questo tempo di servizio fotografico il prossimo che arriverà spero presto sarà il lookbook realizzato ad Alessandra Pierattini di Pistoia e per la solita trafila e per il solito iter per la commercializzazione questi cinque euro vi dicevo saranno devoluti interamente all'associazione promitalia che è l'editore che siamo noi in pratica per per quanto riguarda il progetto cycling for respect che vede la partecipazione volontaria di tante ragazze che vanno in bicicletta alle quali doniamo dei completini con scritto sopra stop alla violenza sulle donne chiediamo prevenzione e protezione non chiediamo discorsi noi lo chiediamo di più non possiamo fare sta legittimamente al legislatore sta alla politica in questione prevenire certe situazioni laddove è possibile e comunque proteggere al cento per cento le ragazze che subiscono degli abusi o che comunque sono sottoposte a delle persecuzioni no allora tutto ha uno scopo sociale ha uno scopo benefico ha uno scopo promozionale sostiene in questo caso si sostiene un pochino di sociale si sostiene il ciclismo si costiene le ragazze che praticano ciclismo e che si sono che si sono che hanno dato la loro disponibilità per questo importante progetto la nostra sveva guidali rizzera di origine italiana che qualche domenica fa ha portato sul gradino più alto del podio i nostri colori i nostri valori che vengono fotografati con la vincitrice o anche con l'ultima arrivata o anche con la semplice amatrice cicloturista come risa santino che a termine di una bella gravidanza che ha dato alla luce una bellissima bambina non poteva essere diversamente alla quale stiamo già preparando un completino va in bici per la provincia di varese non solo scala le grandi montagne con indosso i nostri completini con delle con dei messaggi importanti ecco insomma quindi anche loro fanno parte del nostro progetto queste ragazze della moda per ritornare all'argomento si stan si sono avvicinate a alla proposta di asso modelle a piccoli che a piccoli passi stiamo iniziando a realizzare quindi shooting backstage video promozionale look e bucche stampato a casa il tutto gratuito e messo poi pubblicato poi su le più grandi librerie online che troverete sui sui nostri profili e poi una volta che il libro sarà pubblicato ufficialmente vi daremo tutti i link in maniera da andarvi a rivedere a vedere le vostre amiche il fine non è quello di vendere 10 libri per incassare 50 euro perché e che magari potremmo anche destinare altre associazioni antiviolenza o iniziative che soprattutto prevengano io sono per la prevenzione abbiamo uno sponsor importante per quello che riguarda il progetto nel ciclismo che è automobili di capriolo brescia che è una sva da favola che fanno dei anzi se quando avete bisogno di comprare qualcosa chiamate beppe cesarie gli dite andate a nome mio una volta c'era una pubblicità e vi farà un trattamento speciale uno sconto speciale però di questo ne parleremo in futuro quindi asso modelle ha preso il via grazie all'avvocatessa simona grossi del foro di latina lei si occupa è diciamo la protagonista di questo progetto perché è un progetto fatto da donne per le donne io sono l'ideatore il fondatore porto avanti la mia passione professionale della fotografia e della comunicazione però stiamo allargando la cerchia delle collaborazioni a donne interessate ragazze donne interessate a dare a collaborare con noi per portare avanti questo progetto che parte dalla toscana è partito da artimino diciamo da prato firenze però si vuole sviluppare in pochino in tutte le regioni in maniera da dare questo servizio a tante ragazze ci sono già in ballo nel cassetto mezzo aperto dei progetti che io ho presentato alle ragazze di mia fiducia che fanno parte che ho conosciuto durante le serate anche di miss italia toscana che ho conosciuto anche successivamente sottoposte a loro per perché hanno un'esperienza maggiore e sono tanti anni che collaborano che che praticano questo mondo un'iniziativa particolare sta piacendo tantissimo quindi a breve uscirà fuori questa questa iniziativa che nasce sempre per promuovere ragazze per farle lavorare e offrire loro un bel palcoscenico c'è la collaborazione in questo progetto della tenuta il casale di sanignato un agriturismo spettacolo con ristorante a part 10 appartamenti una piscina nel mezzo delle colline di sanignato che ormai sono conosciute e rammentate in tutto il mondo tra bosco sole speriamo che ritorni prima possibile vita all'aria aperta naturale mangiare prodotto nella tenuta olio vino ortaggi tutto quello che volete c'è un grande chef e moreno e che ci ha offerto la location per queste iniziative infatti il prossimo shooting di giovedì pomeriggio vedrà protagonista care una giovane ragazza che darà seguito a questa nostra iniziativa successivamente ce ne sono già altre che si sono proposte che ho contattato che con le quali abbiamo anche trovato appunto un accordo gli ho spiegato questo nostro progetto adesso lo cerco di spiegarlo meglio purtroppo il video verrà un po lunghino ma quindi il progetto asso modelle prevede per adesso questo tutto quello che vi ho detto fino a oggi con questo look book che è garantito non solo a parole ma anche con i con questi piccoli fatti la prossimo obiettivo è darvi link per farvi vedere dove andranno queste pubblicazioni e quindi per ora si va avanti così quando ci sarà qualche novità voi seguiteci sempre sul nuovi canali di asso modelle che ripeto non è un'agenzia di moda di modelle si chiama associazione perché fa parte di un'associazione è un progetto al quale si possono iscrivere per iscrivere intendo andare sul sito registrare il proprio nome e cognome e successivamente mettere le foto e gestire quindi è uno spazio web importante a disposizione per le ragazze visto costantemente anche da dal mitico gerry santoro che si avvale anche si è abbalzo di tre ragazze come gaia arianna e alessandra nell'evento del lancio moda di montecatini di marzo queste tre ragazze sono sono apparse nelle editoriali del sul sito della intercalfiuritalia.com per chi lo volesse visitare ma in questo mese di maggio uscirà usciranno anche un servizio bellissimo su questo evento fatto da estetica.it la prima rivista la prestigiosa rivista dedicata alla moda dell'acqua e fer quindi la vetrina è importante ripeto qui le ragazze non devono pagare niente è tutto gratuito e non sono obbligate a niente firmano la liberatoria se non la vogliono firmare non la firmano se con la liberatoria firmata domani mi chiamano come è successo proprio in questi giorni che per motivi professionali una ragazza vuol togliere il video da youtube e il video youtube si togge quindi c'è il rispetto per tutti soprattutto la libertà di delle ragazze di vivere la loro vita per come per come vogliono ovviamente nel rispetto delle regole perché insomma siamo anche un po chiusi sotto certi sotto certi aspetti però insomma le soddisfazioni per adesso non sono mancate io mi sto facendo una grande esperienza che non avevo in questo settore e quindi andiamo avanti adesso mi metterò al lavoro per ottimizzare questo book lo manderò subito a gaia per l'approvazione e poi arriveranno tutti i link che vi ho promesso spero di essere stato esaustivo rimango a disposizione di tutte per eventuali domande dubbi non abbiate timori o vergogna niente oppure potete anche contattare sul sito trovate il riferimento la mail telefono della avvocatessa simona grossi e insieme a riuscire a costruire questo nuovo progetto di sostegno alla passione che avete per la moda e la fotografia una buonasera a tutte e a presto